Musica Buonasera e bentornati al Tempo di Greta qui con me oggi in questo lunedì dopo il primo fine settimana di settembre il tenente colonnello Filippo Petrucci Buonasera colonnello, bentornato, come sta? Tutto bene, grazie Adesso io la voglio portare in un posto se le dico benvenuti al sud oppure Osho che cosa le viene in mente? Non me lo dica perché glielo faccio vedere vediamo un po' Ciao Greta, io in questo momento mi trovo a Castellabate dove ieri mi è stato consegnato il premio Pio Alferrano 2021 questo è un posto stupendo, il clima è meraviglioso e visto che tu nel tuo spazio in tv ti occupi di meteo ho pensato di regalarti questa vignetta Ciao, a presto Quel signore con gli occhiali, la legga un po' lei è Federico Palmaroli in arte Osho e ci ha mandato questa vignetta, la legga lei colonnello Io che dico? Ha rinfrescato, ve? Eh sì, è quasi da mascherina di lana Ah grazie a Osho è così, è quasi da mascherina di lana? No, no, no E a Castellabate invece che è bellissimo il paese di benvenuti al sud Il Cilento ha sempre un clima eccezionale e anche nei prossimi giorni ci sarà una temperatura piacevole e poche nubi Ah, perfetto Vabbè, quindi è un tempo bello dappertutto Abbiamo capito che questa fine, questo settembre ci continuerà a trattare bene perché le temperature saranno calde ma non troppo ci sarà qualche nuvola, qualche pioggia e quindi noi a questo punto ci lasciamo ma ci vediamo venerdì Alla prossima